Il governo spagnolo ha deciso di introdurre per questo 2023 una nuova norma, cioè di far pagare ai produttori di sigarette e di tabacco i costi per la pulitura delle strade di Spagna e delle città spagnole dai mozziconi di sigarette. È una novità del 2023, appena entrata in vigore, non si sa ancora bene quanto i produttori di sigarette dovranno pagare né come il governo ha intenzione di avviare la pulitura delle strade spagnole dai mozziconi di sigarette. Intanto però è una importante presa di posizione. Questo in Spagna, in Italia una legge di questo tipo non c'è, ma c'è chi decide di fare da sé, di pulire le strade dai mozziconi di sigaretta. Tra questi c'è Roberto Longo, che è il referente di Plastic Free Vicenza ed è il nostro ospite qui a Teleambiente. Benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Roberto, lei è stato chiamato il cacciatore di mozziconi di sigarette. Perché ne ha trovati e ne ha raccolti una quantità smisurata? Quanti ne ha trovati? Ne ho raccolto tantissimi, è vero. Era un obiettivo però arrivare a una quantità importante. Poi essendocene tanti ho fatto anche abbastanza presto a raccoglierli. 80 kg che equivalgono a circa 60.000 mozziconi. L'attività l'ho svolta principalmente da solo o con mia moglie, anziché uscire da casa per fare una passeggiata con le mani in tasca. Io mi sono attrezzato di un piccolo strumento, che è questo qui, una pinza raccogli rifiuti, che mi aiuta a raggiungere il pavimento, il terreno, insomma, del marciapiede della strada. E con un sacchetto raccoglievo i mozziconi sparsi in giro in città. Perché io abito a 15 minuti a piedi dal centro storico pedonale della mia città di Vicenza. Quindi sono in piena città, sono stato visto da tantissime persone e mi sono impegnato a conservarli anche per fare poi questo messaggio. Quanti ce ne sono in giro? Tantissimi in ogni dove, in ogni posto. Ottanta chili in quanto tempo? Ho iniziato a maggio, perché a maggio, fra l'altro, in una giornata ecologica della città, col blocco del traffico, in centro città ho organizzato un clean up in gruppo, avevo una trentina di persone, in quella giornata abbiamo raccogliato nel centro storico della città, quindi nel salotto della nostra città, quasi 26 kg di mozziconi. A quel punto, che poi sono stati conferiti all'azienda che smaltisce i rifiuti nella nostra città, a quel punto mi sono interrogato su questo fatto e ho detto, qui dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo far vedere quanti ce ne sono, non basta un messaggio spot così di una giornata dedicata a questo. E così ho proseguito individualmente, ovviamente dicendo anche ad altri di fare come me, e poi, cammino facendo, siamo arrivati a queste quantità a fine del mese di dicembre, insomma. Questi mozziconi di sigarette, abbiamo visto le immagini di lei che li mette tutti insieme, per far vedere quanti sono, in effetti da vedere, fanno davvero impressione. Si trasformeranno in piante, in che senso? Allora, sì, noi come Plastic Free, la nostra mission principale è di sensibilizzare sull'abbandono della plastica a monouso nell'ambiente. Poi quando andiamo a fare le nostre attività di pulizia nell'ambiente, in gruppo, i nostri clean up, ne facciamo quasi 40 ogni fine settimana in tutta Italia, e volevamo anche aggiungere un valore aggiunto all'ambiente, che andiamo a bonificare dai rifiuti abbandonati. E con una start-up di Vicenza, che è stata generosissima nei nostri confronti, come segno di gratitudine, ci ha detto, ok, Roberto, ti impegni tantissimo a raccogliere i mozziconi, e voglio gratificarti in qualche modo, il suo titolare di questa azienda, che si chiama Emiliano, abbiamo convenuto che mi regala un albero ogni 5 kg di mozziconi. Quindi io adesso che sono arrivato a raccogliere 80 kg, ho ricevuto 16 alberelli da mettere a dimora poi negli spazi verdi della mia città, in accordo con l'ufficio ambiente, individuiamo uno spazio che li possa ospitare, e faremo una piantumazione, magari coinvolgendo altri ad aiutarmi, magari qualche famiglia con i bambini, a fare questa giornata di piantumazione, che sarà bellissima e coronerà l'impegno profuso nella raccolta. Prima ci ha fatto vedere il marchigegno che usa per raccogliere i mozziconi di sigarette, abbastanza facile anche da trovare, e quindi tutti possono farlo. Tanto che lei ha lanciato una challenge, una sfida, ad altri membri di Plastic Free nel resto d'Italia, ma anche a chi non fa parte di questa associazione, una sfida che è stata raccolta. Sì, allora la nostra associazione è semplice, ma efficace nella sua struttura. Siamo sparsi nel territorio, siamo quasi 1300 referenti, e sa com'è, la struttura è fatta così, abbiamo i nostri canali social, principalmente su Facebook, c'è la pagina della ONUS principale, poi ci sono le pagine delle nostre regioni d'Italia e delle città capoluogo. Va da sé che i nostri contenuti, le nostre sensibilizzazioni, le nostre immagini vengono viste e condivise un po' ovunque, quindi quando io ho iniziato a fare questa attività è diventata abbastanza conosciuta e dispersa in tutto il territorio italiano, quindi ho amici dalla Sicilia, da Lecce, da Catania, da Pisa, da Livorno, da Merano, nel nord Italia, che hanno aderito, o meglio, si sono impegnati a raccogliere nel loro tempo libero i mozziconi con l'obiettivo di avere poi a fine anno guadagnato una o due alberi, tre alberi, cinque alberi, quello che corrisponde al peso raccolto, perché è bellissimo poter andare in un ambiente, uno spazio verde, un prato e poter mettere a dimora un albero insieme agli altri.